E buon anno a tutti comunque, buon anno a tutti perché è stato un anno che ha visto un Inter, innanzitutto a inizio gennaio 2023, un Inter che era ancora in corsa per lo scudetto, che ha vinto a Napoli, cioè che ha vinto a San Siro contro il Napoli, che ha alzato la seconda Coppa Italia consecutiva, eliminando i Gobbi in semifinale, che ha alzato una supercoppa, una supercoppa che veramente ha fatto biangere e tornare nei tombini la terza squadra di Milano, con un 3-0 schiacciante in quel di Riad, è un Inter che ha dato una lezione di calcio al Manchester City, alla squadra più forte del mondo che viene dal triplete, di che cosa stiamo parlando? Un Inzaghi che ha fatto cagare addosso Guardiola agli ultimi minuti di Istanbul, è una squadra che ha zittito tutti i gufi che dicevano già che l'Inter era fuori col Benfica, che davano l'Inter già per spacciata ai gironi, un girone di ferro, e il ferro è vero, il girone è vero di ferro, non quello delle merde di quest'anno del Milan, un girone veramente difficilissimo da passare col Barcellona campione di Spagna e col Bayern Monaco, Barcellona umiliata a San Siro, umiliata al Camp Nou che per quell'errorino di Aslani potevamo pure vincere 4-3, un Inter che ha zittito Guffi e Gobbi che hanno passato tutta la stagione con il tronchetto tra i denti e hanno rosicato dal primo al novantesimo, andate e ritorno, siamo arrivati a Istanbul e abbiamo fatto in partito una lezione di calcio a Guardiola e al City. E per arrivare a quest'anno dove abbiamo dato, non una lezione di calcio, una lezione di calcio, di vita e di, come dire, anche una dimostrazione sessuale, ecco, di come abbiamo messo a 90 la terza squadra di Milano per 5 pere, 5-1, un Inter schiaccia sassi che risponde da una lezione di vita e dimostrazione sessuale vinculata a una squadra e alla loro tiposeria che tutta l'estate è stata a vantarsi del loro mercato faraonico di 120 milioni, 200 milioni, 300 mila giocatori di qua a destra e sinistra, un mercato senza minima logica, che adesso sono attualmente a meno 12. Quindi, forza Inter, buon 2024 che sta per arrivare. Ah, poi...